Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Occhio alla Spesa. Buongiorno a tutti, allora passatemi gli scontrini che valutiamo in diretta, veloci, iscrivetevi tutti a questo canale, siete tra le controtendenze di YouTube e vi invito tutti a iscrivervi in questo luogo. Dove il vino scorre a fiumi. Allora, quando indosso questa maglia si parla o di calcio internazionale o di coppe di Champions League, o comunque un qualcosa di esterno al nostro microcosmo di provinciali, perché noi siamo dei vergognosi provincialotti, diciamo, in questo mondo apolide, sradicato e sans frontières, il vero viaggio di scoperta è essere provinciali, provincialisti, dialettali, sconvenienti e non vergognarsene, anzi, ma farne un vanto. Potrei fare questo video in dialetto veneto, ma lo capirebbero in pochi, quindi soprassiedo. Allora, io Messi non lo vorrei, o non lo voglio, anche se, diciamo, un giorno Messi dovesse essere affiancato alla mia squadra del cuore, che è la Fiorentina, io Messi non lo voglio. Per una questione e calcistica e filosofica, e calcistica e filosofica, che vi vado a spiegare. Allora, calcisticamente Messi mi ha sempre dato l'idea di essere un prodotto abbastanza, diciamo, se non costruito, ma abbastanza affettato e inflazionato, da parte di quella squadra, il Barcellona, che ha sempre bisogno di costruire una narrazione di sé, di essere un simbolo sul campo di qualcosa che deve emanarsi anche fuori a tutti i costi, diciamo, un po' un prodotto in vitro, tra virgolette, della borghesia calcistica mondialista barcelloniana, mi ha sempre dato quell'impressione lì, un giocatore che a Barcellona ci viene dipinto come un fenomeno inarrivabile, il miglior giocatore della storia, quando secondo me non è così ed è Pelé in primis, ma io preferisco anche lo stesso Ronaldinho a Messi, perché se bisogna osare si osi fino in fondo, e Messi non lo voglio perché non voglio il suo storytelling. Banalmente, o paradossalmente, è quasi più umano lo storytelling Ronaldiano di quello messiano, cioè nella, sì, concordo, ridicola, ridanciana, totalmente puerile retorica del Ronaldo che si impegna, del Ronaldo che fa palestra, quella povertà retorica è quasi più nostra dell'idea che si ha sempre per scontata che Messi sia superiore, che Messi è Messi, Messi che è un club, ci ha rotto i maroni, posso dirlo che Messi mi ha rotto i maroni, mi ha rotto i maroni questa religione messianica, questa esaltazione del Messi fuoriclasse umile, del Messi fuoriclasse, basta, basta, io Messi non lo voglio. E qui ci starebbe un altro ragionamento, quello diciamo del classico popolano middle class, del semicolto, tra virgolette, che potrebbe venire a dire, ma come? Ma tu hai l'opportunità di comprare, di avere per le mani uno dei più grandi giocatori della storia del calcio? Hai l'opportunità di marchiare la tua maglietta con l'epopea calcistica di uno dei più grandi calciatori di sempre e non lo vuoi? E qui interviene il nostro, qui interviene il nostrismo come camaleontismo dell'inopportunità, come esistenzialismo della sconvenienza, che dice proprio perché è uno dei più grandi giocatori della storia, proprio per il suo portato narrativo, proprio per la sua retorica, per quel suo barile di retorica, diciamo che si porta appresso, che per me è un grande no. Per me è un grande no. Nell'epoca che voi dite essere stata calcata dal più grande giocatore della storia, io mi tengo il mio proletariato. Io mi tengo il mio proletariato. Io mi tengo uno scoglio che argina il mare e non voglio il tuo fuoriclasse storitalizzato. Non voglio Messi, non voglio Messi. Voglio proletariato organizzato come ha fatto Lellas Verona. No Messi, no Messi. Non voglio i lustrini, non voglio le paillettes, non voglio le narrazioni, non voglio il campione che viene in Italia con tutto sto carico di adorazio pubblica, ok? Di presentazioni, di gioie. Di gioie. Di gioie da catena di montaggio. No grazie, no grazie. Viva! Anzi, scavalliamo! Tutti elogiano una Serie A che, a detta di alcuni dei più entusiasti, quindi dei più antinostri, sarebbe tornata in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, ad attrarre campioni, a diventare competitiva. Quando sentite parlare di competitività e di eccellenza, turatevi il naso e rivolgetevi altrove. Si sente parlare di una Serie A che sarebbe tornata competitiva, addirittura eccellente, attraente, l'attrattività, come se fossimo magneti, ok? Io non voglio una Serie A più competitiva e attraente. Io voglio una Serie A non attraente, ma equilibrata. Una Serie A sovietica. Un campionato da Est Europa, ok? Dove su 28 squadre che partecipano, tutte abbiano la stessa possibilità di competere per il titolo. Quello è il mio sogno, non che la Juve o l'Inter prendano Messi. Non me ne frega niente. E se fossi l'Inter o la Juve, io direi, ho l'opportunità di prendere Messi? La rifiuto. Io dico no. Io dico no. Io dico che voglio vincere con spirito proletario. No ai campioni, no a queste narrazioni in vitro, no a Messi, no a Ronaldo, no a nessuno. Solo metallici, spartani, plastici, mistici e meccanici giocatori. Anche USA e JET. Anche USA e JET. Quindi io a Messi in Italia dico un grande no. Ci saranno torme, torme di narratori, di giornalisti che pregheranno in ginocchio a Messi. vieni a giocare qui, ti prego, onora la mia squadra con la tua luce e la mia presenza. Io dico no. Io non lo voglio. Se mi dicono chi vuoi la Fiorentina tra Fofanà e Messi? Beh, sapete già la risposta, sapete. Sapete già la risposta. È un grande sì a Fofanà. Viva Fofanà, basso Messi. Io non voglio campioni, non voglio fuoriclasse, non voglio narrazioni, non voglio storytelling, esigo la sovietica potenza del pesante e la sovietica prassi. Ok? Quindi io a Messi dico no, come dissi no a Cristiano Ronaldo, voglio una Serie A povera, dimenticata da Dio, sconveniente, puzzolente, provinciale, dialettale, ok? Ma è ugualitaria. Egalitaria. Egalitaria. Priva di storytelling e narrazione. Ok? Quindi ammesso e non concesso che Messi venga in Italia, non mi stropiccerò gli occhi per Messi, ma per Fofanà sì. Va bene? E mi raccomando, andate a vedere il video di Pepe Reina che canta sul tavolo dell'Aston Villa io non so i marinero, so i capitano. Quelle sono le cose da condividere nella vita. A proposito, in chiusura di video, domani che è venerdì, volevo fare un video extra calcistico. Ditemi se volete un video di ufologia oppure un video in cui vi spiego perché la Lega ha perso in Emilia Romagna.